Ci sono ancora conferme sulla gran nevicata che dovrebbe interessare il centro-nord Italia. Le proiezioni meteo prospettano per domani neve in Toscana, le Marche e l'Umbria. In una prima fase potrebbe tornare la neve anche su Roma e di conseguenza su Frosinone, dove poi si dovrebbe tramutare in pioggia. Neve soprattutto sui centri montani ad alta quota. Il Burian, che sta irrompendo in queste ore sull'Italia, ha portato un vero e proprio shock termico, con la colonnina di Mercurio che in molte località, dal nord al sud della provincia di Frosinone, è crollata di parecchi gradi sotto lo zero. I comuni montani della Ciociaria non si sono fatti però cogliere impreparati. La macchina organizzativa ha funzionato nel migliore dei modi, anche nei piccoli centri. I sindaci si sono attivati in prima persona per far sì che si rimuovesse la neve dalle strade e si provvedesse alla salatura per evitare e limitare i disagi dovuti al gelo. A Morolo assistita è trasportata in ospedale per le cure una dializzata del paese. A Vico nel Lazio il primo cittadino guerrieri ha utilizzato anche gli extracomunitari per liberare dal ghiaccio le strade altrimenti irraggiungibili. E proprio il brusco abbassamento dei valori termici preoccupa la Coldiretti, l'associazione nazionale che raggruppa gran parte dei coltivatori agricoli. Le temperature che si sono recentemente avute sono state piuttosto miti per il periodo, favorendo un risveglio vegetativo delle piante da frutto. Non è raro infatti osservare gemme e boccioli già gonfi. Le diffuse gelate notturne hanno compromesso però interi raccolti, con gravissime ripercussioni economiche, particolarmente a rischio anche gli ortaggi invernali come cavoli, verzi e broccoli. Si calcolano danni per 300 milioni di euro. A far paura ora è il protrarsi del gelo sui campi. Forte preoccupazione continua la Coldiretti anche per i vigneti. Con queste temperature si attendono anche morti ed aborti nelle stalle, dove il pasto degli animali è stato rinforzato per garantire una razione supplementare di energia e calorie. Di fronte a questa situazione climatica da tutti definita eccezionale, il consigliere provinciale comunale di Frosinone, di Forza Italia, Danilo Magliocchetti, scrive al presidente della regione Lazio affinché si attivi per richiedere lo stato di calamità naturale. Non possiamo lasciare soli gli agricoltori, si legge nella missiva, bisogna sostenerli in questo delicato momento, mettendo a loro disposizione tutti gli strumenti normativi e finanziari per ammortizzare l'entità delle perdite subite. La campagna elettorale di questi giorni, pur estremamente importante, non deve tuttavia farci perdere di vista le criticità insorte in questo periodo. Quella dei danni che sta subendo il comparto agricolo, in particolar modo in Cioceria, è una di queste, senza considerare che nelle prossime ore sono attesi ulteriori peggioramenti, proprio in provincia di Frosinone, che potrebbero portare ulteriore neve e conseguentemente il protarsi, della permanenza del ghiaccio. Anche se i disagi della nuova nevicata dovrebbero essere molto limitati. Dopo l'ondata di gelo si dovrebbe avere una fase nevosa che in gergo meteorologico viene detta da addolcimento, in quanto aria piumite scorrerà sopra quella fredda affluita in precedenza.